... Legga ad altavoce, non le dico di che cosa si tratta, mi deve leggere ad altavoce questo. Oggetto, richiesta preventiva, noleggio o vendita. Gli importi e le modalità di pagamento saranno concordate e condivise con l'eventuale aggiudicatario. E che cos'è? Lasciamo a perdere, non le dico che cos'è, si può fare una gara d'appalto con una frase scritta così? E' curiosa come gara d'appalto. E' curiosa? Lei la farebbe mai alla CGL una gara d'appalto così? Io voglio sapere prima quanto lo spende, mica dopo. Ah, lei vuole saperlo prima, ex ante lo vuole sapere, non ex post. Non le dico di che si tratta, però lei non la farebbe alla CGL una gara d'appalto così? Devo concordare dopo quanto costa la cosa, dopo che uno ha vinto la gara. Mi sembra strana la cosa. Nessun dorma Nessun dorma Nessun dorma Nessun dorma Nessun dorma